Ciao ragazzi, ben ritrovati sul mio canale YouTube, oggi farò un breve video, però andremo all'attacco perché domani escono dai pacchetti i Food Captains Team 1, subentrerà il Team 2 e ci sono delle carte secondo me molto interessanti su cui poter far compravendita con una rivendita non troppo lunga vi faccio vedere di chi parlo e vi spiego quando comprare queste carte Allora, come al solito il nostro compagno Food Bean, partiamo dal quando comprare le carte tendenzialmente acquistiamo le carte più economiche al giovedì sera perché possiamo avere Lightning's Round, quindi Promo Pack a durata numero limitato abbiamo gli spacchettamenti degli incontri principali abbiamo possibili altre sfide aggiornamento che vengono rilasciate giovedì quindi movimento sul mercato Allora, diciamo che ci possiamo dividere su due categorie di carte Gameplay e Cheapest Gameplay I Cheapest Gameplay sono quelli che hanno un prezzo pari alla propria categoria di riferimento di Overhaul e quindi sono rischio zero chiaramente hanno necessità di o un minimo di utilizzo effettivo nei gameplay quindi magari qualche stile intesa applicato particolare oppure semplicemente un SBC che faccia rialzare la categoria di Overhaul e in questo caso parliamo di giocatori come Gunther parliamo di giocatori come Hector giocatori come Munyain e giocatori come, in parte, Noble ovviamente una carta come Noble è Noble è discretamente interessante per il gameplay così come Gunther un po' meno lo sono Munyain e Hector sono carte un po' più, ecco, meno utilizzate, ok? In che modo flipparli? quindi prenderli stasera sempre andando a via asta o sniping un K, due K in meno rispetto ai prezzi attuali quindi ad esempio una carta come Noble che si può prendere a sotto 40K PlayStation viceversa su Xbox e PC hanno un prezzo ben più alto rispetto ai cheapest di categoria perché vi ricordo che i cheapest di categoria 89 su PlayStation stanno intorno ai 38-39-40 su Xbox e PC stanno ben più alti quindi magari può essere più rischioso un investimento su Noble al contrario Gunther è un cheapest di categoria su tutte le console è un terzino ottimo quindi per chi avesse budget economici e volesse utilizzare una Bundes o dovesse ibridare un tedesco eccetera è una carta perfetta rischio zero lo prendete stasera a 29-30 PlayStation 28-29 Xbox 29-30-31 PC magari con stile ancora, stile ombra e lo flippate a più 4,5-5K oppure un giocatore come Muniain che è un cheap e 79 abbiamo visto come inizio settimana gli 89 arrivarono a 43-44K con la sfida Icon Moments quindi magari l'arrivo di una nuova sfida la settimana prossima l'arrivo di, non so, Zidane Moments Maldini Moments Giallicati eccetera e la categoria 89 assieme a una nuova sfida Icon può far tornare la categoria a 44-45K magari flipparlo con uno stile intesa cacciatore o uno stile intesa ombra ci permette di flippare la carta con facilità quindi anche stasera vado a comprare a 1-2K in meno una carta del genere ci sono invece delle carte che hanno solo l'utilizzo nel gameplay tipo Insigne Yoris Minx specialmente se non dovessimo avere altri portieri nel Team 2 allora sarà interessante la carta di Yoris magari comprarla sempre 3-4K in meno rispetto ai prezzi attuali e flipparla a un prezzo maggiorato uguale per Insigne un giocatore che mi piace particolarmente non è un C-Pest di categoria è semplicemente un terzino economico francese del Lione quindi ibrida qualsiasi cosa prima cosa seconda cosa grazie al leak del giocatore obiettivo Captains del Team 2 Lemoine che è un francese del cambiato francese Dubois diventa a tutti gli effetti un link verde interessante ovviamente chi andrà a completare chi utilizzerà questa card avrà una squadra molto economica e allo stesso modo potrà utilizzare un giocatore come Dubois per andare a linkare quel giocatore lì quindi non è un C-Pest di categoria quindi è un rischio leggermente più alto rispetto a un Gunther o un Muniain della situazione però secondo me è interessante uscendo dai pack anche qua lo vado a comprare stasera a 27-28K Playstation 26-26.5Xbox 31-32PC e lo vado a flippare a più 4-5-6K sopra il prezzo attuale sempre meglio flippare una card con stile Ancora stile Ombra eccetera eccetera dal momento in cui uscirà dai pacchetti inizierà una generale salita dal momento in cui esce il giocatore in questione e magari ha delle stazze interessanti eccetera eccetera probabilmente tra domenica e lunedì avrà già il suo picco massimo di prezzo quindi mi aspetto un rialzo per questa carta qua per chi avesse budget più alti come dicevo Ioris Insigne e Minx sono i miei target principali per budget medio alti altro onestamente anche di più costoso non muoverei per il semplice motivo che siamo in prossimità dell'arrivo del team 2 arrivano tante icon moments giornaliere quindi alternative ai giocatori già esistenti arrivano e in prossimità di arrivo i Tots fra due settimane quindi non muoverei card troppo grosse ma secondo me su questi target qua possiamo andare bene potenzialmente anche Quagliarella essendo a tutti gli effetti un cheapest valutazione 92 al pari di Lewandowski ha un minimo di utilizzo nel gameplay quindi magari qualcosina può rialzarsi ma anche qua flippabile ok solo se con stile cacciatore altrimenti lo lascerei lì dove sta tempi di vendita delle card possono essere fra i due e i 5-6 giorni a seconda generalmente dei contenuti in arrivo però dovremmo avere e potremo avere un'altra settimana di contenuti interessanti come questa settimana questo è quello che io farei muoverei in merito ai Captains Team 1 fatemi sapere qua sotto nei commenti cosa ne pensate su chi investirete su chi avete già investito e chi pensate possa far meglio in termini di profitti di compravendita vi ricordo oggi pomeriggio domani pomeriggio ore 15.30 in live sul nostro canale Twitch non mancate un saluto ragazzi al prossimo video ciao